Entro 20 giorni da oggi il Consiglio Comunale di Nuoro dovrà essere convocato in seduta pubblica con all'ordine del giorno l'audizione dei massimi dirigenti di Abanoa che dovranno fornire informazioni sullo stato dell'arte dell'approvvigionamento idrico di Nuoro che anche quest'anno ha comportato disagi per i cittadini e le imprese a causa delle rotture delle tubazioni dell'acquedotto di Gianneverru che rifornisce i serbatoi cittadini. E' quanto prevede una richiesta sottoscritta dai consiglieri del gruppo del PISDAS, Graziano Siotto, Primo Firmatario Claudia Camarda e Viviana Brau. Servivano almeno altre due firme di consiglieri per consentire di raggiungere un quinto dei componenti dell'Assemblea come richiesto dal regolamento comunale e alle firme dei sardizi sono aggiunte quelle di Marassana del Movimento 5 Stelle e di Paolo Fadda di Uniti per Nuoro. Ora il Presidente del Consiglio Fabrizio Becu ha 20 giorni per convocare l'Assemblea Civica con l'audizione a Nuoro in seduta pubblica dei vertici di Abanoa. Su nostra precisa richiesta, sottolineano i consiglieri sardisti, l'Assemblea dovrà svolgersi con la formula della duranza aperta garantendo ai rappresentanti di enti e istituzioni, pubblico-private, alle forze politiche e sociali e ai cittadini tutti il diritto di intervento al microfono durante il dibattito. Nonostante siano assenti le firme di tutta la maggioranza, compresa quella del Sindaco Andrea Suddu che si è dichiarato favorevole solo sulla stampa senza essere conseguente negli atti, concludono i sardisti. Ora che il Consiglio Comunale prenda atto delle gravi carenze di Abanoa e pretenda ufficialmente che questa sia conseguente negli atti e nei lavori necessari alla città di Nuoro in tempi brevi e certi.